Sabato mattina Papa Francesco ha incontrato in udienza il presidente della Lettonia, ci si è soffermati sulle tematiche di maggiore interesse reciproco e sulle buone relazioni esistenti fra la Lettonia e la Santa Sede. Si è parlato della presidenza dell'Unione Europea che la Lettonia assumerà a partire dal 2015 e tra gli altri temi di interesse comune ci si è soffermati sulla situazione in Europa, con speciale riferimento alla Ucraina, auspicando che ogni problema venga risolto con il dialogo. Grazie.